Salvini è milanese come me, lui abita in Piazza Le Siena, io abito agli Olmi, a Baggio, al Parco delle Cave e vogliamo bene ai milanesi. Allora, l'appello che io rivolgo da questa televisione è se vogliamo tutti e due bene ai milanesi e crediamo che possiamo fare bene a questa città, rilanciarla, ridargli forza, c'è una grande sfida per il futuro, va bene, mettiamo da parte E stiamo assieme Mettiamo da parte i nostri pregiudizi e con un giudizio lavoriamo insieme Ci dica sì o no, se no noi ci sentiremo molto liberi, molto liberi in Regione Lombardia, molto liberi in Comune di Milano di fare altro, ma sarebbe una sconfitta per Salvini, per Forza Italia e credo anche per i sottoscritti Gli giro questo suo appello Grazie